Saranno 26 le aziende siciliane che rappresenteranno l'isola al prossimo Big 5 di Dubai, l'importante fiera che si svolge ogni anno nel Medio Oriente. Dal 5 al 6 dicembre, 26 aziende siciliane del sistema CASA saranno presenti alla fiera Big 5 di Dubai. Si tratta delle imprese selezionate fra quelle che hanno risposto all'avviso pubblicato dall'assessorato regionale alle attività produttive lo scorso maggio. L'obiettivo del bando era selezionare le realtà siciliane interessate a partecipare in presenza ad alcune manifestazioni fieristiche internazionali fra il 2022 e il primo bimestre del 2023. Sarà il Dipartimento dell'Attività Produttiva a farsi carico dell'iscrizione nel catalogo della manifestazione delle imprese relative all'affitto dell'area espositiva, dell'allestimento e dell'arredamento di base degli stand. Grazie al sostegno della Regione, sottolinea l'assessore alle attività produttive Edi Tamayo, alle realtà imprenditoriali della nostra isola offriamo vetrine importanti e nuove opportunità di promozione in un momento di ripartenza dell'economia dopo gli anni difficili della pandemia. Fare conoscere i nostri prodotti e le nostre competenze in contesti internazionali di primo piano, come quello della manifestazione nel paese arabo, è necessario per la crescita di tutti i nostri comparti produttivi. Il Big 5 di Dubai è una delle principali rassegne globali nella quale si danno appuntamento espositori nazionali e internazionali dai settori arredamento per la casa, materiali per l'edilizia, ceramica, costruzioni, attrezzature e tecnologia. È il più grande evento focalizzato su queste tematiche in Medio Oriente, Africa e Asia Meridionale, che si svolge ogni anno e attrae oltre 67.000 professionisti del settore di tutto il mondo.